buongiorno a tutti cari novasinate giusi benvenutissimi in un nuovissimo videissimo oggi parleremo di reality show come ben sapete in questi giorni sta andando di moda il grande fratello vip del quale non vogliamo parlarvi perché stendiamo un vero pietoso parliamo però di un nuovo reality che a breve dovrebbe coinvolgere tutti gli spettatori media se stiamo parlando di l'isola dei famosi 2020 ebbene ragazzi ci sono dei cambiamenti ci sono delle novità su questo nuovo reality quindi seguite bene questo video e scoprirete tutto vanno le cianci e ciancio levante prego giusi l'isola dei famosi uno dei reality show più amati dal pubblico televisivo di mediaset e mancherebbero pochi mesi alla ripartenza del programma di canale 5 presumibilmente presumibilmente perché nulla è certo in questo mondo la messa in onda sarà dopo la fine del gfvip ma per adesso si tratta solo di supposizioni indiscrezioni supponenze indecenze reticenze e tutte le cose che finiscono penenze ma la curiosità dei fans dell'isola di famosi aumenta sempre di più e a proposito di indiscrezioni vogliamo svelarvi cosa sappiamo a proposito della conduzione perché pare ma pare proprio che nella prossima edizione reality non lo ritroveremo più ad essere alessia marcuzzi la donna che ha più ginocchia che braccia non stavo dicendo una parola ma dopo mi censurano va bene va bene quindi alessia marcuzzi probabilmente perché tutti lo stanno dicendo ma la conferma ufficiale non è ancora stata data quindi probabilmente non vedremo più la marcuzzius in quelle londurus la nota conduttrice avrebbe rinunciato all'isola dei famosi per un nuovo programma tv ovvero lo show the record addirittura oppure il summer festival e beh ma perché immancabilmente anche le iene ma scusami alessia va bene devi fare le iene devi fare lo show the record devi fare il summer festival cosa te ne frega fai anche l'isola no cioè se c'è qualcuno barbara dulzo che insegna che si possono condurre vagonate di programmi contemporaneamente e lei comunque o magari si stanca troppo la ragazza sì perché sai gestire quelle ginocchia è un po' un casino in molti si erano affezionati al volto di alessia marcuzzi che era ormai diventato una tradizione per reality show di canale 5 ma alla conduzione potrebbe arrivare un'altra donna molto amata dal pubblico di mediaset che ha già esperienze per quanto riguarda i reality chi sarà secondo voi chi sarà non ve lo diciamo anzi ve lo diciamo dai secondo le descrizioni infatti una nuova conduttrice potrebbe essere ilary blasi soprattutto dopo la sua non conduzione del gfv che come sapete è stato affidato a quella grande balessa di signorini ma se non ricordo male non era la stessa ilary blasi che disse che non voleva più condurre questi reality seriosi e che lei piacevano appunto quelle trasmissioni un po dove si raccontava un po di allegria infatti aveva condotto appunto l'euro gay l'euro game come si chiamava giochi senza frontiere giochi senza frontiere appunto e quindi adesso fa ricadendo nello stesso errore e sì me lo ricordo benissimo un'intervista della blasi nella quale disse basta reality gli occhini li zebedei e infatti la coerenza regna sovrana ma ancora non sappiamo nulla di certo probabilmente mediaset ci farà una grande sorpresa chi lo sa comunque vi abbiamo parlato della conduzione ma parliamo adesso dell'inviato è perché qui la cosa diventa un pochino tergiversosa sono davvero molti nomi che circolano sul web ci sarebbe la possibilità della conferma per alvin ma si ipotizzano anche altri volti noti dello spettacolo ebbene sì tutti vorrebbero alvin ma non è detto che sia lui perché tra gli altri nomi in lizza ci sarebbero filippo bisciglia sapete quello che apre le mani no rocco si freddi sapete quello che apre quindi ne lasciamo perdere rocco si freddi ma vabbè niente è l'ultimo vincitore dell'isola dei famosi marco maddaloni marco maddaloni come inviato ragazzi qui secondo me o sono le riviste di gossip che ne stanno sparando a vagonate perché io non ce lo vedo e scusate se ve lo dico bravo bravo sportivo simpaticissimo ma no come inviato allora io vi voglio dire una cosa il ruolo di inviato non è affatto facile signore e signori perché sembra che vai lì e parli un pochettino ma quando si tratta di spiegare le dinamiche del gioco non è affatto facile alvin è il più ideale secondo me abbiamo visto poi il suo successore stefano de martino che si impappinava un pochettino non era adatto a quel ruolo quindi immagino marco maddaloni non lo vedo proprio beh però vedrei bene ero così freddi secondo me perché è un bravissimo oratore un bravissimo intrattenitore ma non pensate male no 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 lo vedo lo vedrei bene nel ruolo di inviato oppure oppure cala media se proprio non sai chi mandare come inviato londuras ci sono quei due sacramenti di nate giusie ti faccio un esempio guarda guarda come presento bene i giochi e ciao qui c'è un gioco da fare allora qui ci sono le luci di cocco devi suonare qui fai così ok sono bravo no come inviato vabbè avete capito cosa mi devo sopportare io dalla mattina alla sera no vabbè non è vero in realtà sono una persona molto seria si si certo vabbè proseguiamo comunque poi c'è un nome ragazzi un che sta facendo il giro sul web da un po di tempo e beh si tratta di jaya man l'attore turco protagonista della so povera tutti a bittersweet ingredienti d'amore ebbene ragazzi io mi dispiace per voi io vi devo dire la mia allora nonostante jaya man è stato per molti anni in italia studiato ha fatto insomma le superiori non credo che sia in grado di portare a termine il ruolo come inviato non ci lo vedo proprio perché anche per quanto riguarda ci possa per te non è riuscito a intrattenere le persone allora ragazzi jaya man va bene è un figo della madonna lo sappiamo soprattutto per le ragazzine bravo attore vabbè lasciamo perdere se non mi infamano però un conto è fare attore un conto è essere fighi un conto è presentare spiegare i giochi avere sempre la battuta pronta ragazzi non è facile non è facile solo una persona può farlo è il pulaster ecco per esempio vi faccio un esempio che mi è venuto un esempio lampante ebbene giulia michelini giulia michelini è bravissima nel fare l'attrice è stupenda c'è nel suo ruolo ma quando ragazzi la vedete al di fuori della fiction è una ragazza molto insicura poverina molto timida molto e quindi ecco non un personaggio non potrebbe mai scendere il ruolo da attrice e poi fare tipo l'inviato è una cosa un po particolare comunque per chiudere il cerchio tutte le donnine d'italia ovviamente vorrebbero vedere jaya man come inviato l'isola ai famosi non è detto che sarà lui secondo me è una grande tavanata comunque ragazzi le vie di media se come vi abbiamo sempre detto sono infinite staremo a vedere che cosa si inventeranno comunque sarebbero invece già state confermate le due opinioniste alba parietti e alda de usanio però guardate io vi dico una cosa io non credo è non credo perché a me personalmente le due mesi insieme non mi sono tanto piaciute allora a costo di essere ripetitivo io se penso a alba parietti alba de usanio sapete cosa vi viene in mente sapete cosa vi sapete sapete cosa mi viene in mente ebbene per quanto riguarda i naufraghi che cosa sappiamo e sì perché ragazzi abbiamo parlato di inviati abbiamo parlato di conduttori ma il focus principale dell'isola sono i naufraghi no secondo voi che ci saranno sedetevi che adesso vi raccontiamo tutto c'è già un papabile casca e sarebbe pronto a sbarcare a caio coccinos tra i nomi che circolano sul web ci sono tuttutututum alessia macari ex ciocciara di avanti un altro e vincitore concorrente del grande fratello e poi chico nalli ex di dina cipollari anche lui ex concorrente del gf il politico antonio razzi antonio razzi sei un mito antonio razzi è l'emblema della politica italiana non fa si può dire una mazza una mazza va in tv va nei reality si diverte il ragazzo e noi lo paghiamo luca speracchi chi non conosce luca speracchi specialmente durante le vicende di lineonella dursa con la sua fidanzata la Enger comunque ex protagonista di Uomini e Donne e poi la politica e opinionista Alessandra Mussolini con lei ne vedremo delle belle Millie d'abbraccio ex attrice a Luciosse ah la Millie d'abbraccio hai capito cosa cerchi la noce di cocco o la canna di bambù va bene va bene questa forse la taglio Jack Valoreo opinionista di Uomini e Donne e poi la giornalista e conduttrice tv Rosanna Lambertucci famosissima io tutte le sere la prego ma il cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi è ancora lungo tra gli altri possibili naufraghi ci sarebbero pure Marco Baldini conduttore radiofonico si vabbè vista anche simpatico poi l'ex gfino Alberto Mezzetti la sciogher Sara Tomasi chiamasi sciogher adesso ma anche lei ex collega di Rocco Sifredi si si perché qui c'è proprio la scuderia di Rocco Sifredi a proposito questo mi fa ridere Sossio Aruta Sossio Aruta per carità bravissimo personaggio ce lo vedo ce lo vedo bene ce lo vedo che magari gioca con le noci di cocco calcio le attrici Maria Monse Deleonora Giorgi ma scusa Maria Monse è un'attrice ah Maria Monse è un'attrice ci prova l'opinionista di pomeriggio 5 Fabiana Britto e poi Eva Robbins nota cantante Fabrizio Bracconieri attore ma non è finita qui inizia anche la modella Silvia Rocca il cantante Rosario Miraggio ma chi è? è un miraggio ah ma canta? mamma mia si te sei nel deserto no? stai morendo di sete a un certo punto senti uno che canta ah dove canta? e dice un miraggio Rosario vabbè lasciamo perdere ma mica finita qui ragazzi Luana Borgia ah scusami te lo devo dire lei però lo dico io anzi diciamolo insieme Luana Borgia e anche lei un'ex attrice e quindi collega di Rocco Sifredus l'attore Angelo Costal è venuto anche per la relazione con Corinne Clary la showgirl Nadia Bengala anche ex Miss Italia ed ex attrice Valentin Demi culturista e attrice e per finire in bellezza siccome troppe attrici a luci rosse Jessica Rizzo altra attrice a luci rosse cioè ragazzi in quest'isola non lo so vogliono creare vabbè non mi fate parlare ma comunque non ci resta che attendere le prossime settimane per avere delle nuove news e magari qualche conferma riguardo alla nuova edizione dell'isola dei famosi che dovrebbe andare in onda già a partire di ad aprile 2020 insomma dopo la fine di questo lunghissimo grande fratello VIP che pare non finire mai mamma poi con due diretti alla settimana è veramente uno schianto negli zebedei ragazzi però va bene comunque ragazzi vi abbiamo appena raccontato la rana e la fava sappiamo tutto ovviamente ripetiamo nulla è ancora certo quindi restate sintonizzati per sapere novità per sapere aggiornamenti ad ogni modo a questo punto la pala aspetta voi che cosa ne pensate di questo ipotetico cast ma soprattutto chi vorreste vedere esattamente come conduzione all'isola dei famosi e soprattutto come inviato non dite tutti Jayaman perché dai è scontato raga comunque fateci sapere che cosa ne pensate è scontato che non ci sarà perché è impossibile è impossibile comunque fateci sapere riempite qua sotto lo spazio proprio qua sotto nei commenti vi ringraziamo ogni giorno ogni giorno ogni volta che facciamo un video vi ringraziamo tutti quanti perché ci sostenete ci volete bene e questo per noi è molto ma molto ma molto importante molto molto importante per ringraziare voi cari lovers di supportare Nati e Joseph chiedo gentilmente di mettere un bel mi piace sotto questo video se vi è piaciuto registratevi al canale e cliccate la campanella per non perdere tutti i ragionamenti bla 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 e soprattutto se ne votate questo video degno di essere visto da più persone possibili ve lo dice anche il pullaster condividete 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 ciao ciao Rocco ciao